Musica Ben ritrovati amici di Globus Television, mi trovo nel Dipartimento di Fisica e Astronomia di Catania. A breve avremo insieme a noi il grande ideatore dell'IG Nobel Prize, Mark Abrams, insieme a tutti i ragazzi del Dipartimento, per una ricerca bizzarra e fantasiosa. Quando è nato l'IG Nobel? Quando l'IG Nobel è nato. La prima cerimonia dell'IG Nobel è stata nel 1991. Inoltre queste manifestazioni fanno anche riflettere ma sono anche qualcosa di giocoso e bizzarro. La prima cerimonia è per la pioggia e pensare. Non sono accostumato con questo. Potete commentare su questo? Sì, i ragazzi sono per le cose che rendono riuscire e pensare. Questo è inusuale. Ogni ragazzo del mondo è per la migliora cosa, come l'Olimpica o per la migliora. La migliora liste, la migliora film. Buono e buono, non importa. Tutto che importa qui è qualcosa che fa le persone riuscire e poi pensare. In tutti gli altri premi di solito si premia o chi è proprio il top o a volte ci sono quei premi di consolazione per i peggiori. Invece questo premio è concepito in una maniera diversa perché vuole innanzitutto fare ridere le persone ma poi anche riflettere. Quindi è uno spirito completamente diverso che porta la scienza in generale e la cultura sotto una dimensione diversa. Quella di appunto essere qualcosa di divertente ma qualcosa da cui partono le riflessioni. Questo cappello è una delle ricerche bizzarre che fate e che avete fatto. Questa è un'altra cosa, come si è collegato a questa pioggia e la ricerca? Sì, abbiamo la Ceremonia, l'Ig Nobel Prize Ceremonia, ogni settembre nel U.S. a Harvard University. Io porto questa pioggia durante la Ceremonia. È una pioggia molto storica. Ok, questo cappello è stato usato sempre in tutte le cerimonie dell'Ig Nobel Prize che si svolge ogni anno a settembre alla Harvard University. E quindi è un cappello storico. E come io ho detto oggi, io è come il cappello di Harry Potter, di Harry Potter. In che modo le premiazioni, qual è il metodo che utilizzate per premiare i ragazzi? Come si chiama i ragazzi ogni anno? La gente manda nominazioni. Abbiamo circa 10.000 nuove nominazioni ogni anno da tutto il mondo. Abbiamo un comitato, l'Ig Nobel Board of Governors, che si chiama ogni anno per chiusare 10 ragazzi. Ogni anno arrivano circa 10.000 nomination per poter scegliere tra i 10 premiati dell'anno. E c'è un comitato che seleziona, combatte e decide quali sono le migliori, dal punto di vista del ridere e pensare, idee da premiare. E allora grazie. Grazie. Grazie a te e in bocca al lupo per tutte le altre tue ricerche. Grazie a te. You're welcome. Ciao. Oggi è una giornata importante per l'Università di Catania con la presenza di Mark Abrams, grandissimo ideatore dell'Ig Nobel. Sì, in effetti siamo molto contenti di aver organizzato questo evento, questa tappa del League Nobel Tour che sta spaziando un po' in tutta Europa, in tutti i maggiori centri di ricerca europei. Oggi vede Mark ospite del Dipartimento di Fisica e Astronomia Ettore Maiorana e del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia. Quindi siamo molto contenti perché è un modo diverso di portare la scienza al grande pubblico. E i ragazzi come hanno reagito? Beh, penso che siano incuriositi e interessati. Adesso questo lo vedremo e vedremo, diciamo, penso che sarà una presentazione abbastanza insolita rispetto a quelle che normalmente vengono fatte. Ci aspettiamo molta interattività, ma non vi vogliamo svelare nessun segreto prima dello spettacolo che Mark ha preparato. Grazie dell'invito e allora ci vogliamo lo spettacolo. Grazie a voi, grazie a voi. Potremm scary cosi si sarebbe una hoopa così? Corsi mattidi alla молодa attivamento 300 anni fa. They avevano lunga e produttore visibilizzare un plantello Carlo vampire. La Persona Cамera come Haiti ass被 vorrei detillere Societ mediocre, regla di Tph. Troye anche ha fatto, recentemente, era più giovane. Troye ha spento molti anni costruendo un suit d'armura e poi personalmente testando questo suit d'armura. Era un suit d'armura speciale che sperava di proteggirlo contro grisli. In realtà molte scoperte scientifiche nascono proprio da, sono intanto spesso casuali, quindi nascono da situazioni assolutamente contingenti che non erano previste, quindi la famosa serendipity che è un fenomeno ben noto a chi studia la scienza. E poi a volte contengono stranamente alcuni aspetti umoristici che, ripeto, magari se uno guarda la pubblicazione ufficiale non li nota, ma il gruppo di esperti di Mark Hub, ha un occhio particolare, quindi riescono a rendere alcune ricerche che, veramente, guardando i titoli degli articoli, uno mai direbbe, ma loro riescono a cogliere quell'aspetto che, come diceva Andrea prima, prima fa sorridere chiaramente perché magari sembra una butade, poi invece si scopre che dietro c'è una serissima ricerca scientifica. Questo per dire che la scienza a volte è vicina anche alla vita quotidiana, anche da questo punto di vista. Quindi si può utilizzare anche come materia integrativa nel piano di studi, questa? Beh, questa non lo so, però diciamo che è un aspetto interessante perché significa anche prendersi un po' in giro, quindi non prendersi mai troppo sul serio e questa è una buona cosa. Sulla scienza si può anche scherzare, però per questo prendere in giro la scienza. Lei è fiero di avere oggi nel Dipartimento di Fisica il grande Mark Abrams? Eh sì, è veramente un onore per noi avere Mark Abrams qui con noi in questo giro europeo. È la prima tappa italiana, ce ne saranno solo due, quindi siamo davvero fieri di averlo con noi. E peraltro, insomma, questo è il premio Ig Nobel e noi abbiamo due Ig Nobelist tra i nostri docenti. E chi sono questi due docenti? Andrea Rapisarda e Alessandro Pluchino che hanno vinto l'Ig Nobel alcuni anni fa e per noi è davvero un onore, anche perché è un premio in un certo senso dissacrante, ma nello stesso tempo molto profondo, tanto è vero che anche dei premi Nobel come Andre Gain hanno vinto prima il premio Ig Nobel e poi il premio Nobel. E allora in bocca al lupo a tutto il Dipartimento e ai ragazzi, speriamo che ci possono essere anche delle ricerche, delle proposte da parte dei ragazzi. Certo, senz'altro. E credo che sarà una bellissima serata, un bellissimo pomeriggio. Ci sono tantissimi giovani e quindi mi auguro anche che occasioni come queste avvicino i giovani alla scienza. Grazie. Grazie. Grazie.